Allora, c'è un messaggio da leggere? Il primo, reggi il primo A Silvia di Grandi Stazioni Sono il marito di una delle due Silvie di Grandi Stazioni Se mai fosse indirizzato a mia moglie Mi auguro che sia l'unico ed è il solo messaggio E comunque non creda che si possa avere stima di un uomo Tra virgolette Che non dice le cose di persone E soprattutto che mente alla propria compagna Compagna Ecco, io direi Un uomo che legge il messaggio Pensa che per la moglie Non ciò che abita niente E va a fare qualcosa Perché non è uno qualunque Sa quello che deve dire Sa quello che vuole Sa quello che fa E adesso Qualche messaggio dopo Silvia la bionda o Silvia la castana? Cioè Ci stiamo rendendo l'opo di che cosa sono le donne Eh? Ma che cazzo si rincerete? Cioè, ma che Ma voi mi diriete? Sì, perché era l'altra bionda Ma l'altra Silvia Sicuramente Ci mancherebbe Però Bionda o castana? Cioè, le donne Oh Le donne Ma che siete? Oh Eh Oh Eh Potevi dire Spero si chiama quella bionda Perché quella castana È rossa Quella castana Eh? Forse questo è un messaggio migliore Eh? Non si può perché Eh? Eh? Ma bionda la castana Rimpagliare un uomo È un messaggio migliore È un messaggio migliore È un messaggio migliore È un messaggio migliore È un messaggio migliore